Al suo funerale non c'era nessuno. In realtà non è stato neppure celebrato un rito funebre. È stata semplicemente seppellita nel cimitero di Arezzo, la città dove era andata a vivere per stare vicino al figlio Diego. Ma ad accompagnare la Circe della Versilia nel suo ultimo viaggio non è andato neanche lui, cheppure lavora come allevatore di cani nella non lontana Monte San Savino ed era stato vicino alla donna negli ultimi tempi in cui era malata. Per Maria Luigia Redoli così c'è stato solo il semplice trasporto dall'obitorio dell'ospedale al cimitero di Arezzo e nessuno, tranne gli uomini incaricati di questa operazione, le ha fatto compagnia. Sulla bara una mano pietosa ha solo appoggiato un fiore, quando si trovava ancora all'obitorio. Una fine davvero triste, insomma, a quella della protagonista del giallo forse più famoso di sempre. L'omicidio del marito Luciano Jacopi, assassinato con 17 coltellate nel 1989 nel garage della sua villa di Forte dei Marmi, di cui fu riconosciuta come mandante assieme all'amante, che sarebbe stato l'esecutore materiale, per mettere le mani sull'eredità di famiglia. A parte il figlio Diego, aveva anche una figlia, Tamara, ma con lei le ferite e le accuse reciproche non si sono mai sotturate. Così, nell'ultimo periodo, Maria Luigia viveva con due cagnolini e due badanti ed anche se aveva acquisito la semilibertà dal 2015, è morta completamente da sola.